Fratelli, questa ultima frase ci inchioda, è la parola di libertà, di cui abbiamo bisogno, fratelli carissimi, tu rinnegai a Cristo, hai rinnegato a Cristo, io ho rinnegato Cristo, Pietro, Pietro ha rinnegato Cristo come Giuda, in verità, in verità ti dico quello che tu farai, ma ti ho scelto, ma ti ho amato, e ti dico una cosa, ti profetizzo una cosa, la più bella che possa profetizzarti, mi seguirai più tardi, darai gloria a Dio come Dio sto dando gloria, ora morendo per tutti, ora, ora dice, Il figlio dell'uomo è stato glorificato, quando? Quando Giuda è uscito, quando Satana è entrato in Giuda, mamma mia, sì, quando Satana entra in te e consegni a Cristo e lo tradisci, ora, in quel momento, Gesù è glorificato, la gloria, lo spessore, la sostanza divina, l'impronta della sostanza divina appare e dà gloria, dà onore, dà autenticità, dà lode, certifica, testimonia, l'amore di Dio, questa è la gloria di Dio, in Cristo che dà la vita per te, Che si consegna spontaneamente, dà il boccone a Giuda, come lo dà a te, a me, che tante volte abbiamo dubitato, non vi scandalizzate, tante volte abbiamo dubitato, forse senza neanche rendercene conto, forse sì, senza sapere veramente cosa stavamo mangiando Il corpo di Cristo che noi riceviamo, l'Eucalistia, è il suo corpo spezzato per amore, fratelli carissimi, e dentro c'è scritto il suo amore per te, il suo amore per me, è la mia e la tua storia Chi si unisce a Cristo diventa una sola carne con lui, diventa Cristo e Cristo crocifisso, Cristo e Cristo risorto Hai dubitato questo mille volte, come hai dubitato Pietro, davanti alla possibilità di morire, no, no, fino a lì non arrivo, fino a lì non posso arrivare, vengo con te, fino alla morte, ma che vieni con te? Tu si avresti venuto con me fino alla morte, se avresti visto che io stavo lottando per te, stavo lottando con la spada, avresti voluto morire nella battaglia umana, nella battaglia contro l'ingiustizia Lì forse mi avresti seguito, ma lì come l'ultimo, come un agnello, sgozzato, nite, umile, senza reagire, senza dire una parola, senza difendermi, no, io lì dentro non ci entro, tu lì dentro non ci entrerai Come non ci siamo entrati tante volte, per questo la notte di Giuda è la stessa notte di Pietro, identica, ma per Giuda non c'è stato il gallo Il gallo è l'apostolo, è il Vangelo, è l'annuncio del Vangelo, è quello che vede spuntare l'alba, è l'annuncio a tutti Il gallo ha visto l'alba del venerdì santo, ha visto l'alba del sabato santo, ma ha visto l'alba della domenica Il gallo, i vescovi erano chiamati galli, anticamente, nella chiesa primitiva, il gallo annuncia il mistero pasquale di Cristo Prima di quel mistero, prima che per tre volte, cioè prima che, scusate, prima che il gallo canti tre volte Canti, tu mi rinnegrai tre volte, vuol dire che tu mi rinnegrai nella stessa notte di Giuda In quella notte tu mi rinnegrai perché tu non vedrai nulla, perché sei ripreso dall'ingano del demonio Bene, io te lo dico adesso, ma accanto a questa profezia ti dico che tu mi seguirai Che quando sentirai il cantare del gallo, capirai chi sei, capirai veramente chi sei E scenderanno le lacrime sul tuo volto Allora potrai ricordarti che io te l'ho detto, che quella mia parola è una parola piena d'amore Allora comprenderai quando verrò risorto sulle rive del mare di Galilea ad abbracciarti e a dirti Mi ami? Sì, sì, ti amo, ti amo, tre volte, sì Tu non sai, tu sai che io voglio amarti, tu sai tutto signore, io non so che dirti, guarda Io voglio amarti, sono un macello, ti ho tradito Allora sì, allora adesso puoi pascere le mie pecorelle, puoi compiere la volontà del padre Poi compiere la tua missione e andrai dove tu non vuoi, cioè mi seguirai, mi seguirai E detto questo, gli disse, seguimi perché darà gloria a Dio, dice il Vangelo di Giovanni Esattamente come Cristo dice in questo momento, io sto dando gloria a Dio, amandovi a tutti quanti Quanto è importante il Cenacolo, fratelli, quanto è importante la comunità cristiana Dove si compie tutta la parola, prima del Getsemane, prima del mistero pasquale c'è la comunità cristiana Prima di entrare nel lagone della vita c'è la comunità cristiana dove riconoscere chi siamo Riconoscere la nostra debolezza, i nostri tratimenti, lo stesso spirito demoniaco che ha avuto Giuda dentro La stessa notte nella quale entriamo tante volte nella comunità cristiana Tutto questo può apparire chiaro e senza timore, possiamo riconoscerlo Perché? Perché c'è il petto di Cristo, c'è il suo fianco squarciato, c'è la roccia del sepolcro aperta C'è il cielo di nuovo spalancato su di noi, c'è la vittoria di Cristo Possiamo mettere la nostra mente, possiamo reclinare lì il nostro capo Possiamo riposare nel suo amore, possiamo riposare da tutti i nostri sforzi Per cercare di lottare contro ingiustizia, possiamo riposare dai nostri peccati Possiamo morire all'uomo vecchio su quel petto, su quella fenditura della roccia Possiamo nasconderci, possiamo sentire il suo cuore che batte per te, per me E ti dice ti amo, ti amo, ti amo Possiamo sentire profondamente dentro di noi di essere amati così come siamo Gesù sapeva tutto prima, qualcuno mi tradirà, morirò Lo sapeva tutto e non ha fatto nulla per cambiare la storia Nulla, perché sapeva che quella era la volontà di Dio per salvare te E dentro la comunità cristiana, nel Cenacolo, possiamo ascoltare questo Ascoltare la profezia, vederla compiersi Fare dentro il mistero pasquale di Cristo Messi lì, nascosti, mettendo la nostra mente La nostra mente, quella dove entra il peccato La nostra ragione obnubilata dalla menzogna Che vede tutto male, che vede tutto con lo spirito di Giuda Possiamo mettere questo, reclinarlo sul petto di Cristo come Cristo lo ha reclinato sulla croce E reclinarlo con Lui nella storia, perché sappiamo anche noi Che quello che ci attende oggi, ci attenderà domani, è la morte E la morte, ma quella morte è una porta stretta Che dà sulla vita, per te e per i fratelli Perché la passi con Cristo, perché è l'unico posto in cui tu puoi stare unito Unito, 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 unito a Cristo Per entrare con Lui nella vita E portare con te tantissime persone Quelli che sono nella tua famiglia, quelli che sono al tuo lavoro Dove sia, questa è la missione, questa è la missione di Pietro L'unico pericolo, induirci come Giuda No, chiediamo al Signore questa intimità Entrare con Lui, appoggiati a Lui, appoggiati al suo petto Rifinando il suo petto, riposando, rimettendoci a Lui completamente Sì Signore, sono questo Risuscitami, perdonami Sì Signore, guarda, ho tramato, ho pensato Aiutami, tu vedrai cose meravigliose nella tua vita Vedrai cose meravigliose in questa Pasqua Vedrai il passaggio vero Dalla ragione umana, dal pensiero mondano Al pensiero divino Dalla ragione umana, dal pensiero Dalla ragione umana, dal pensiero Dalla ragione umana, dal pensiero